mezzo m3 note versione asiatic cpu mediatek octa corda 1.8 giga e 64 bit display 5.5 soluzione full hd 2 giga di ram 16 giga rom flyme 5.1 su android 4g lte wifi gps brut fotocamera posteriore da 3 fotocamera anteriore da 5 batteri 4100 mAh specifiche memoria esterna fino a 158 giga le frequenze gsm non ci sono mai tempi di sperizione abbiamo detto in corso secondo step spinning in 3-4 giorni lavorativo con colline express servizio postale da 7 a 15 euro però sta come vedete qua in offerta scala al prezzo 199 euro l'offerta scala fra 3 giorni 3 euro quindi bisogna anche fare presto penso sia un attimo da telefono penso sia un attimo da telefono quindi a presto Grazie.